Per contrastare il sovraffollamento nelle carceri italiane, il Ministero della Giustizia studia misure alternative per scontare brevi periodi residui di condanna, in particolare domiciliari e affidamento in prova per quei detenuti condannati per reati non ostativi. Ieri a Parma si è consumata una nuova tragedia, un giovane detenuto si è tolto la vita e il 67esimo suicidio nelle carceri italiane dall'inizio dell'anno. Filtro ottimismo a Doha, dove nelle prossime ore è previsto un nuovo round di negoziati per il cessato e il fuoco a Gaza. Alla luce dei progressi fatti finora il primo ministro del Qatar, Altani, avrebbe chiesto all'Iran di recedere dall'idea di una rappresaglia contro Israele. Tensioni in Cisjordania, dove un centinaio di coloni ebrei hanno dato alle fiamme un villaggio il bilancio di un morto e diversi feriti. Negli Stati Uniti, in attesa del primo dibattito televisivo, duello a distanza tra Donald Trump e Kamala Harris. L'ex presidente ha bollato come incompetente la candidata democratica alla Casa Bianca, bocciando il suo programma economico. Poche ore prima, la Harris era apparsa per la prima volta in pubblico insieme a Joe Biden dopo la sua rinuncia alla corsa presidenziale. È ricoverato all'ospedale San Martino di Genova il ragazzo di 14 anni che ieri sera a Sori aveva subito l'aggressione di un coetaneo. Tre coltellate alla gamba, all'addome e al fianco dopo un delicato intervento chirurgico è stato dichiarato fuori pericolo. All'origine del gesto forse una rivalità in amore ed un like che l'aggredito aveva messo sulla foto di una ragazza. Sarà Genoa-Inter domani alle 18.30 ad aprire la nuova stagione della Serie A. Molti club che si presentano al via con organici ancora incompleti. Questa mattina visite mediche per Gudmundson a Firenze. Napoli vicino all'esterno brasiliano del Benfica Neres, vicinissima la chiusura per il passaggio di Copminers alla Juventus. Questo pomeriggio invece l'attesa è tutta per il Palio di Siena. 10 le contrade al via a partire dalle 16.40 in diretta sulla nostra rete. Potrete seguire Racconto e Telecronaca. Buongiorno dal telegiornale della Sette. Dunque in primo piano la situazione dei carceri italiani. Ancora atti di autolesionismo, tentativi di fuga rivolte come quella di ieri al carcere Le Vallette di Torino che è proseguita durante la notte. Ci sono sei agenti feriti, altri due sono stati intossicati da un principio di incendio. Una situazione quella dei penitenziari italiani che fa dibattere all'interno della maggioranza stessa ad una settimana dal nuovo decreto carceri che è stato convertito in legge. Ci si interroga su cosa si è fatto, su cosa si poteva e ancora si doveva fare per migliorare la situazione dei nostri penitenziari, le condizioni dei carcerati e soprattutto combattere quello che è il grande problema dell'affollamento carcerario. Ieri a Parma l'ennesimo suicidio nell'estate peggiore di sempre nei penitenziari italiani giunti al collasso, un giovane detenuto in attesa di giudizio arrivato da Ancona da soli tre giorni si è tolto la vita proprio mentre nell'istituto era in corso la visita dei radicali italiani e del garante nazionale dei detenuti. Alle Vallette di Torino invece un tentativo di rivolta iniziato nel pomeriggio con una maxirissa e incendi di materassi in diversi padiglioni si è concluso solo a tarda notte. Durante i disordini ci sarebbe stato anche un tentativo di evasione, sei agenti feriti e due intossicati il bilancio. Episodio di cronaca che ancora una volta riaccendono lo scontro politico su uno dei temi più discussi delle ultime settimane, il sovraffollamento carcerario con il decreto carceri sicure divenuto legge una settimana fa negli stessi minuti in cui il ministro della giustizia Nordio chiedeva un incontro al capo dello Stato per affrontare la questione. Una questione che ha aperto anche un fronte interno alla maggioranza di governo con Forza Italia che quest'anno ha deciso di affancare i radicali nel loro tradizionale giro di visite estive negli istituti penitenziari del paese. Azzurri che chiedono la revisione della custodia cautelare in carcere, tema su cui in contrasto con Fratelli d'Italia apre il guardasigilli che ieri ha visitato il carcere femminile veneziano della Giudecca. Penso che con la nomina del commissario straordinario e con l'attuazione del nuovo decreto carceri entro i prossimi due o tre mesi cominceremo a vedere i risultati assicurato Nordio. Misure alternative al carcere tra cui i domiciliari o l'affidamento in prova per i detenuti condannati per reati non ostativi i quali devono scontare pene residue entro un anno. Sarebbe questa una delle ipotesi al vaglio del Ministero della Giustizia per affrontare il tema delle carceri sovraffollate. Il decreto carceri prova che il governo Meloni e Fuffa sintetizza il leader di Tagliaviva Renzi che ieri era nel carcere di Sollicciano. Ferragosto in carcere anche per il sindaco di Roma Gualtieri che lasciando Regina Celi ha lanciato un appello al governo. Affronti questa emergenza non è possibile che nella capitale d'Italia ci sia un istituto con quasi il doppio di detenuti rispetto alla capienza e con un terzo in meno di polizia penitenziaria. Polemiche infine sulle dichiarazioni del sottosegretario alla giustizia del Mastro. Non entro in carcere solo per visitare la mecca dei detenuti ma in primis per confrontarmi con gli agenti di polizia penitenziaria che hanno il compito di risolvere i problemi dei detenuti ha detto il deputato di Fratelli d'Italia lasciando il carcere di Taranto. E adesso andiamo all'estero per vedere quella che è la situazione nei due principali scenari di guerra. Proseguono i negoziati per raggiungere una tregua, non cessate il fuoco a Gaza, risolvere la questione degli ostaggi. C'è Hamas come sapete che è una sorta di convitato di pietra. Gli Stati Uniti dicono che quello che è stato l'inizio di questo dialogo ieri ha dato dei segnali incoraggianti. Buono dunque il primo approccio, però c'è da dire che nel contempo c'è stato un attacco dei coloni in Cisgiordania che ha suscitato una profonda condanna sia da parte degli Stati Uniti che da parte di molti leader israeliani. A Doha continuano gli sforzi di Stati Uniti, Egitto e Qatar per arrivare dopo 314 giorni di guerra a un accordo tra Hamas e Israele che porti a un cessate il fuoco nella striscia di Gaza e al rilascio degli ostaggi ancora nelle mani del gruppo islamista. Attorno al tavolo ci sono CIA, servizi segreti israeliani, il ministro egiziano dell'intelligence Abbas Kamel e il primo ministro del Qatar, Altani. Sono proprio i catarioti più ottimisti. Parlano di progressi dei negoziati, tanto da chiedere all'Iran di considerare attentamente se vale la pena attaccare Israele proprio ora. I negoziati di Doha infatti stanno cercando anche di scongiurare la temuta risposta dell'Iran a Israele per la morte di Ismail Ania, i cui sviluppi potrebbero allargare il conflitto a tutta la regione. Secondo Tel Aviv, Teheran ed Hezbollah potrebbero prendere di mera politici ufficiali dell'esercito e funzionari dell'intelligence israeliana anziché lanciare missili o droni. Sul tavolo dunque c'è una prima bozza di accordo in tre fasi proposta a maggio da Biden. Rilascio dei primi ostaggi in cambio di un centinaio di prigionieri palestinesi, ritiro dell'esercito israeliano dalla striscia e terza fase ricostruzione di Gaza. Hamas, anche se non è presente con una sua delegazione al tavolo, ha fatto sapere che condizione necessaria perché si arriva all'intesa e che il ritiro da Gaza delle forze israeliane sia totale. Mentre tutta la diplomazia internazionale è al lavoro per convincere le parti a firmare un accordo, i ministri degli esteri britannico e francese sono in Israele in queste ore, sul campo Tel Aviv ordina lo sgombero di alcune zone del centro della striscia designate come zone cuscinetto perché da lì proverrebbero lanci di razzi verso Israele e l'esercito starebbe pianificando operazioni contro Hamas. Hamas che a sua volta, dopo l'attacco di un commando di coloni israeliani in un villaggio della Cis Giordania che ha ucciso un uomo e ferito un altro, duramente condannato dallo stesso presidente israeliano, ha chiesto a tutti i palestinesi di reagire con rabbia per scoraggiare i coloni e rispingere i loro attacchi terroristici. Ecco, importanti poco fa le parole del ministro degli esteri israeliano Katz che parlando con i suoi colleghi, i suoi omologhi britannico e francese ha detto di aspettarsi che se l'Iran dovesse poi decidere un'azione di attacco nei confronti di Israele, gli alleati rispondano non solamente come difesa ma anche attaccando bersagli significativi in Iran. Ci spostiamo adesso nello scenario della guerra in Ucraina con Kiev che avanza, come sapete, da giorni nella regione russa di Kursk. L'intento militare è quello soprattutto di guadagnare terreno e distruggere le basi aeree, quelle basi dalle quali sono partiti centinaia di attacchi in questi mesi di guerra nei confronti di Kiev. Sono centinaia anche, secondo Kiev, i prigionieri russi che sono stati fatti dall'esercito ucraino verranno, si dice, utilizzati più qua per scambiarli con prigionieri di guerra, a sua volta ucraini, fatti dai russi. In questo scenario il Cremlino attacca dicendo che questa operazione, questa incursione in territorio russo da parte dell'esercito di Kiev, dietro vede la mano della Nato e dei servizi speciali occidentali. È stata la mano della Nato a mettere in moto la macchina bellica ucraina nell'offensiva di Kursk. Tenuta in scacco sul terreno militare da oltre 10 giorni dall'esercito di Kiev, adesso Mosca allarga lo scenario della battaglia in corso e punta l'indice direttamente contro l'alleanza, accusata di aver architettato l'operazione che ha messo a nudo le debolezze della sua difesa e che potrebbe segnare una svolta nell'andamento del conflitto. La versione del Cremlino è affidata a uno degli uomini più vicini a Vladimir Putin, il consigliere presidenziale Nikolai Patrushev, che imputa a Nato e servizi occidentali il coordinamento dell'incursione e attribuisce a Washington una partecipazione attiva sul campo. A corredo il Ministero della Difesa russo diffonde questo video che proverebbe la distruzione di due lanciamissili americani Haimars che sarebbero stati utilizzati dalle forze ucraine per colpire la regione russa di Kursk. Proprio da Kursk, che è solo per una piccola porzione in mani ucraine, la scorsa notte è partito un attacco di droni respinto contro Kiev, mentre droni ucraini tentavano di colpire Kerch nella Crimea occupata. Le truppe di Zelensky continuano a piantare bandiere in territorio nemico. Il Presidente ha annunciato il controllo totale della città di Sugja, a 8 chilometri dalla frontiera, che si aggiunge a un'ottantina di altre località già conquistate. Anche se Zelensky insiste con i distinguo, non è un'azione di annessione, ma è per costringere i russi a tornare dietro le linee da cui sono arrivati. Anche gli oltre 100 prigionieri fatti in questi giorni dovrebbero pesare nella trattativa. Mosca da parte sua mette a segno la riconquista del primo villaggio di confine e continua a inviare uomini e mezzi nelle regioni di Belgorod e Bryansk, che rischiano di seguire la stessa sorte della limitrofa Kursk. È da qui che potrebbe partire il tracciato di un corridoio umanitario che gli ucraini si preparerebbero ad aprire per sfollare i civili rimasti intrappolati dai combattimenti. Si tratta di oltre 120 mila persone, costrette per il momento a riparare in centri di accoglienza temporanei, che però non forniscono garanzie di sicurezza, vista la fluidità della linea del fronte e le operazioni a sorpresa messe a segno dai due eserciti. In Germania gli abitanti di una vasta area attorno a due basi militari nei pressi di Colonia sono stati interdetti dall'utilizzo dell'acqua. Stiamo parlando di almeno 10.000 persone a cui le autorità hanno vietato non solo di bere, ma di usare anche solamente per una doccia, tanto per intendersi, l'acqua del rubinetto a causa di una sospetta contaminazione. Già due giorni fa l'allarme era scattato nelle due basi militari dove si erano verificati casi di gastroenterite, dove era stato scoperto un tentativo di sabotaggio. Le due basi, una della Nato e l'altra dell'esercito tedesco, ospitano spesso militari ucraini per addestrarli all'uso delle armi. Adesso ci spostiamo negli Stati Uniti per parlare di questa prima sorta di sfida a distanza tra i due candidati alle presidenziali. Donald Trump in campo repubblicano, Kamala Harris in campo democratico, due diversi incontri in vista di questo appuntamento. Kamala Harris è apparsa per la prima volta insieme a Joe Biden che ha fatto il suo passo indietro. Donald Trump invece ha tenuto una sorta di vero e proprio comizio nel quale ha nuovamente attaccato la candidata democratica, ha criticato la politica economica del governo statunitense e ha criticato anche quella che è stata la svolta green nel mondo delle auto. Ma come sentirete dal servizio ha mandato anche un messaggio ben preciso nei confronti di Israele. Entra nel vivo la campagna elettorale per la conquista della Casa Bianca con lo scontro Trump Harris che si fa sempre più duro. Dal suo golf club nel New Jersey l'ex presidente degli Stati Uniti ha organizzato una conferenza stampa che si è trasformata più che altro in un comizio in cui ha attaccato la sua rivale. Presentandosi davanti a tavoli imbanditi di generi alimentari per rivendicare il caro Prezzi l'ha definita un incompetente che vuole trascinare tutti verso il comunismo. Il suo programma economico dice somiglia a quello Venezuela di Maduro salvo però averlo elogiato nella sua conversazione con Elon Musk pochi giorni fa 186 milioni di visualizzazioni. Non solo la zarina dell'immigrazione come la chiama avrebbe fallito al confine col Messico e l'ha accusa di voler ridurre i fondi alla polizia, posizione che però Harris ha cambiato da quando è vicepresidente. Ma l'intervento di Trump tocca anche temi di politica interna, metterà fine alla svolta green sui veicoli elettrici, anche qui parlando con il patron della Tesla, gli aveva invece promessi e di politica estera promette in caso di rielezione di ristabilire la pace nel mondo e sostiene di aver consigliato al premier israeliano Netanyahu quando l'ha ricevuto a Mara Lago il mese scorso di ottenere rapidamente la vittoria perché le uccisioni devono finire nella striscia di Gaza. Ma ieri è stato anche il giorno di Kamala Harris, la candidata democratica riceve il testimone per la prima volta da quando Biden le ha ceduto la corsa e i due sono apparsi insieme in un comizio congiunto. Biden, che secondo le indiscrezioni riportate da politico non avrebbe ancora perdonato Nancy Pelosi per aver organizzato l'affronda contro di lui rompendo un'amicizia durata 50 anni, per la prima volta affonda un colpo basso contro Trump storpiandone il nome, chiamandolo dump che in inglese significa discarica. Attacca le big pharma e vanta i successi degli sforzi per ridurre i prezzi dei farmaci mentre Kamala dichiara di volersi concentrare sul caro vita. Sarà una presidente eccezionale dice Biden anche il Washington Post oggi, lo aveva già fatto il New York Times pochi giorni fa, registra il sorpasso dei democratici a livello nazionale. Prossimo appuntamento 10 settembre i due sfidanti si confronteranno per la prima volta in un dibattito sulla ABC. Torniamo adesso in Italia per dare intanto due dati che arrivano da Banca Italia che sono importanti, significativi per le politiche economiche e anche per quelli che sono i conti del nostro paese. Il primo ci dice che aumenta il debito pubblico ed è un male, il secondo ci dice che aumentano le entrate tributarie per lo Stato. Ha reso noto la Banca d'Italia che a giugno il debito pubblico ammontava a 2.948,5 miliardi, ovvero 30 miliardi in più del mese precedente, mentre le entrate tributarie sono state pari a 42 miliardi con un aumento del 9,9%, 3,8 miliardi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Adesso con la cronaca andiamo a Genova per un fatto di cronaca che desta sconcerto e che anche deve invitare alla riflessione perché sembra che alla base di quanto accaduto ci sia stato un semplice like, quello che è un mi piace sui social e che ha portato ad un regolamento di conti tra due minorenni, un 13enne che ha coltellato un ragazzo di 14 anni alla gamba, alla fianco e all'addome. Tre coltellate per un like di troppo è successo ieri sera nel piccolo comune di Sori vicino a Genova. Durante i festeggiamenti di Ferragosto, processione fuochi d'artificio, dietro la chiesa parrocchiale vicino al campetto di calcio del paese si affrontavano due ragazzini, uno di 13 anni di Recco, comune vicino, e l'altro di 14 di Genova. Si erano dati appuntamento per chiarire il motivo per cui il 14enne aveva messo un like ad una foto postata sui social da una ragazzina ex fidanzata del 13enne. La discussione è degenerata fino alle coltellate sferrate dal più piccolo, alla gamba, all'addome e dal fianco. L'adolescente è stato operato d'urgenza al policlinico San Martino e sta bene. In un primo momento l'aggressore avrebbe ricevuto un pugno sul naso, è andato in uno stabilimento balneare lì vicino per chiedere della carta per pulirsi dal sangue, poi è ritornato nel vicolo e ha coltellato il rivale per poi fuggire di corsa verso la stazione ferroviaria di Sori, dove è stato rintracciato e fermato da una pattuglia dei carabinieri. Il 13enne si trova a casa sua con i genitori in attesa delle decisioni del Tribunale dei Minori. Ieri pomeriggio Alarm Phone, l'organizzazione di volontari che si occupa di segnalare quelle che sono le imbarcazioni di migranti in difficoltà nel Mediterraneo, aveva lanciato un SOS con la posizione, la vedete, di una nave alla deriva con a bordo 125 persone che si trovavano a sud dell'isola di Creta. Il natante, stando alle informazioni raccolte, imbarcava acqua, faticava ad affrontare le onde. Tutte le persone, dice Alarm Phone questa mattina, sono state poi intercettate dalla Guardia Costiera Libica, riportate a Tobruk, dove temiamo, dice Alarm Phone, che subiranno gravi violazioni dei diritti umani. La Libia per loro non è posto sicuro. Mentre è tornato alla sua piena operatività, l'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania, bloccato ieri per la pioggia di cenere vulcanica prodotta dall'ultima eruzione dell'Etna avvenuta la notte di Ferragosto. Decolli e atterraggi sono ripresi regolarmente già nella tarda serata di ieri, mentre dalle 18 l'attività è ripresa in forma ridotta. Fino a quel momento la chiusura della pista e dello spazio aereo su Catania aveva causato gravi disagi. La cancellazione di decine di voli in partenza, il direttamento su Palermo invece dei voli in arrivo. Siamo al calcio perché si riparte con la Serie A, si riparte da domani, si riparte dall'Inter campione per vedere e capire chi riuscirà a vincere questa nuova corsa, a tagliare il traguardo tra tanti ostacoli di un calendario fit, un calendario asfissiante e di un mercato ancora aperto con trattative che anche oggi hanno trovato alcune determinazioni. Dove eravamo rimasti? Il promemoria del calcio nostrano ci riporta lo studetto della seconda stella interista con la concorrenza che si è dovuta accontentare delle briciole. Il Milan è primo delle inseguitrici alla distanza siderale di 19 punti e allora con una squadra collaudata e qualche innesto di qualità come Zielinski e Taremi riparte Inzaghi con una credibilità che sarà dura per gli altri mettere in discussione. I campioni d'Italia aprono a stagione domani in casa del Genoa praticamente con la stessa formazione compreso l'Autaro Martinez nonostante i zero minuti del precampionato. Di fronte resti del gruppo di Girardino che aveva fatto così bene al ritorno in Serie A ma adesso è privo del portiere Martinez di Rieteghi e Gudmundson. L'islandese autore di 14 gol è appena passato alla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto. Insieme a Colpani una tre quarti di talento per Palladino. Al Genoa dopo quattro anni torna Pinamonti, 11 reti al Sassuolo. A questo punto dovrebbe essere liberato Nico Gonzalez, oggetto del desiderio della Juventus e non convocato per la partita di domani a Parma. E proprio la Juve ci introduce ai tormentoni dell'estate che potremmo riassumere con il famoso testo di Enzo Iannacci. Vengo anch'io, no tu no. Calciatori non più in sintonia con i progetti dei nuovi tecnici come nel caso di Enrico Chiesa che ormai è un esubero conclamato. Fuori rosa, rottura totale con il calciatore che vuole andare a scadenza da gennaio. Tiago Motta parte lunedì contro il Como con un mosaico incompleto, ancora da chiudere la telenovela Cup Miners che sembra ormai vicino. Discorso diverso per il Milan che continua a mettere i suoi tasselli. Dopo il terzino destro brasiliano Emerson Royal che arriva dal Tottenham, Fonseca riceve anche il mediano di sostanza. Per lui indispensabile il francese Yusuf Fofanà in arrivo dal Monaco. Va a colmare il vuoto lasciato da Chessi e Tonali. Domani sera la presentazione prima del debutto a San Silo con il Torino. Nel Napoli c'è una fase di stallo intorno a Lukaku. Il club di De Laurenti si ha presentato al Chelsea un'offerta di 30 milioni che per ora è stata rispedita al mittente e allora si stringe per il brasiliano del Benfica David Neres che ha caratteristiche del tutto diverse ma serve in attacco. Operazione da 28 milioni, domenica a Verona per il debutto a Riconte, Raspadori centravanti con Politano e Kvaraschelia. Tutti si chiedono se la storia tra Roma e Dybala sia davvero ai titoli di coda. È il momento dei grandi silenzi perché nessuno vuole uscire per prima lo scoperto. È un segnale che sia possibile il matrimonio con gli arabi convinti di averlo convinto. Paolo anche oggi si è allenato. Che succederà a Cagliari? La palla passa a De Rossi. Per lui domani una conferenza stampa assai complicata. Allora la buona notizia è che è fuori pericolo Alice Tognoli. La ciclista 19enne ricoverata in ospedale dopo essere rimasta vittima ieri di un grave incidente durante una corsa a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. Queste sono le immagini dell'accaduto. Per i sanitari la ciclista resta in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita. Per poter sciogliere la prognosi attenderanno almeno altri due o tre giorni. La Tognoli nella caduta aveva battuto violentemente la testa contro un muretto che era a bordo strada. Oltre ad un grave trauma cranico le sono state riscontrate fratture multiple al costato e ad una gamba. Ma c'è una corsa della quale adesso andiamo a parlare ed è una corsa storica. Il Paglio di Siena nel giorno dell'assunta, come sempre, la 7 ormai è una tradizione, lo trasmetterà in diretta a partire dalle 16.45, qualche istante anche prima, con la simpatia, il commento, la competenza di colui che ormai è un senese d'adozione come Pierluigi Pardo che è già a bordo piazza. Non bordo campo, bordo piazza. Ciao Luca, potremmo parlare di Guelfi Chibellini, di Montaperti o di Colle Valdenza, della storia, proprio dell'istante in cui, facciamolo vedere, sta cominciando a passare il camion perché cominciano le operazioni di pulizia della piazza. Vi dico che Tittia ovviamente è il più cliccato, il più atteso, il fantiro che ha vinto per dieci volte il Paglio. Bello questo speciale sul camion, continuiamo a inquadrarlo, ma insomma ci racconta il senso della diretta di quello che succede. Un altro nome molto cliccato qui è quello di Paolo Sottocorona perché c'è un leggero rischio pioggia, sapete che a luglio è successo praticamente di tutto con il palio che è stato spostato dal 2 al 3 e poi al 4 luglio. Non dovrebbero esserci i rischi, le previsioni inducono l'ottimismo. Ieri per la prova generale c'erano 15.000 persone in piazza, saranno ancora di più oggi. Ecco, proprio questo è il momento nel quale viene transennato perché cominciano le operazioni fondamentali. Sappiamo che il Tufo ovviamente ha le sue regole e che questi baterassi che possiamo vedere assieme al Tufo che deve essere messo a regola d'arte sono proprio quelli della Formula 1 che servono per proteggere ovviamente questi meravigliosi animali e i fantini perché la corsa ovviamente viene fatta a grandissima velocità. Sono sei le contrade che avranno la rivale quest'oggi, tre coppie di rivali a rendere il palio se possibile ancora più complesso da decifrare. Come detto, Tittia è il favorito con l'istrice e con il suo viso d'angelo ma occhio anche alle altre outsider che sembrano essere, secondo i pronostici della vigilia, l'oca, il montone e la selva con un fantino debuttante. L'unico debuttante alle 10.00. Cominciamo alle 16.40. Ci sarà la carica dei carabinieri, ci saranno grandi ospiti internazionali, ci saranno tantissime sorprese e ovviamente ci sarà il meraviglioso affresco del nostro paese, la bellezza, la storia, l'arte di questa città e ovviamente Guelfi o Chibellini non fa differenza da questo punto di vista davvero. Viva l'Italia, a te! Grazie, grazie allora per Luigi l'appuntamento 16.40 sulla 7 per questo palio, sempre di grande interesse e successo. Ci fermiamo per qualche istante, tra poco. Allora, prima di salutarci un aggiornamento su una delle notizie di primo piano di questa giornata, come sapete i colloqui a Doha per una tregua nella striscia di Gaza dopo quelli che sono stati appunto i segnali di ottimismo, i segnali positivi registrati soprattutto dagli Stati Uniti nella sessione di ieri, poco fa ha parlato il portavoce di Hamas, sostenendo che in realtà non ci siano segnali positivi da questo negoziato. Hamas, come sapete, non partecipa direttamente al tavolo, ma pur avendo al momento un quadro non chiaro di cosa stia avvenendo al negoziato, dice il portavoce di Hamas, i mediatori stanno ancora parlando di colmare la cune, ma è chiaro che da parte israeliana si stiano aggiungendo altre condizioni, altre richieste, parlando di nuove questioni e che questo secondo Hamas sia un modo di indebolire il processo negoziale. Pertanto Hamas ribadisce che l'unica soluzione è il ritiro completo dalla striscia su cui erano state date dai mediatori delle rassicurazioni. Ci fermiamo qui, i prossimi aggiornamenti su queste e le altre notizie nell'edizione delle 20, vi ricordo alle 16.40 sulla 7 l'appuntamento con la diretta del Palio di Siena, quello del 16 agosto nel giorno dell'assunta. Grazie e buon pomeriggio sulla 7.